Buonasera ai web lettori del Messaggero Veneto, ci troviamo qui nell'area di servizio L'Edra Est, sono in pieno svolgimento i controlli straordinari organizzati proprio per la prevenzione delle stragi del sabato sera. Vediamo schierate le forze dell'ordine in questo momento, la Polizia di Stato ma anche la Guardia di Finanza con le unità cinofile, la campagna straordinaria di controlli delle condizioni psicofisiche dei conducenti è organizzata proprio dal servizio Polizia Stradale, iniziata attorno alla mezzanotte e si concluderà alle 5 di questa mattina. Stiamo proprio assistendo in questo momento all'arrivo degli automobili che vengono sottoposti a varie tipologie di controlli per accertare che le loro condizioni psicofisiche siano idonee alla guida. Stiamo assistendo ad un controllo che viene effettuato dalla Guardia di Finanza delle unità cinofile proprio in questo momento. All'interno dell'unità mobile siamo con Stefano Marchetti che è amministratore della società Forensic Lab Service e all'interno di questa unità mobile vengono effettuate le analisi al seguito dei controlli che stanno effettuando gli agenti di polizia per accertare la presenza o meno di sostanze stupefacenti. Stefano Marchetti, ci racconta un po' come funziona questa unità mobile che può essere considerata il fiore all'occhiello di questa serata per la prevenzione delle stragi del sabato sera. Allora, questa unità mobile è stata proposta al Ministero degli Interni a seguito di una ricerca che ha evidenziato certe criticità rispetto all'attività di accertamento, di questo tipo di accertamento. Abbiamo proposto al Ministero questa unità mobile che consiste nella presenza del medico per quanto riguarda l'accertamento dell'alterazione e dei tecnici specialisti che fanno le analisi per verificare la qualità e quantità di sostanza presente in citturo di un condicente infernale. Certo, ecco, più tardi ci farà una dimostrazione di come funziona proprio questo strumento. Ecco, poi c'è il dottore Giuseppe Romano che è il medico a bordo e si occupa di valutare le condizioni di un sito fisico e degli ilisti. Maluriamo che ci sono applicazioni fisico-fisiche, quindi problemi di orientamento, di ambulazione, anche problemi fisici che sono sono essi che possono essere legati sì o no all'uso di superfacenti e chiaramente poi spieghiamo in giudizio se le condizioni di valutare le condizioni sono quali sono le condizioni di donne oppure meno, chiaramente, alla vita. Abbiamo con noi anche Riccardo Adobati che è il chimico tossicologico forense, ecco, che si occupa proprio dell'analisi, quindi. Ecco, come avviene questa parte? Dunque, questo laboratorio mobile è dotato di un apparecchio molto sofisticato e uno spettrometro di massa triplo quadrupolo che è l'unica metodica di analisi riconosciuta e valida per confermare un risultato presunto positivo. È riconosciuto sia dalle linee guida che del tossicologico forense che, diciamo, a livello scientifico. Tutte le altre metodiche che non si basano su questa tecnologia, su questo spettometro di massa, non sono tecnologie adatte per confermare un dato. Quindi con questo laboratorio noi siamo in grado di confermare la positività o meno di un campione praticamente in tempo reale. Certo. E chiudiamo il team, chiamiamone propriamente così, con Paolo Dossetto che è specialista applicativo forense. Paolo, ci spiega il suo ruolo quindi? Il mio ruolo è quello di aver messo a punto il metodo di acquisizione dello spettronato di massa. Si può dire che lo spettronato di massa è uno strumento analitico estremamente sensibile e specifico, in quanto isola le molecole in base al peso molecolare. Quindi isoliamo la molecola intatta, questa viene accelerata in una cella di collisione che ne provoca la frammentazione e la produzione di almeno due frammenti caratteristici. Questo ci permette di monitorare tutte le molecole e identificarle, oltre che quantificarle in maniera univoca. Vediamo sia le molecole che i loro metaboliti caratteristici e quindi si dà una positività e quindi seconda, per valere il rischio che le piacerebbe.